ora qua sono le 1 e 18 cosa non si fa per le donne bro stavo dormendo vabbè aspettiamo flora però stavo dormendo in massada però vabbè flora chiama camper giama risponde bella rega prima prendere la bombola nuova rinfinita 15 chilometri e ma forlì caldo comunque si sta bene qua ragazzi dicevo qua si sta bene di giorno arriva pure a fare i 13 gradi la notte arriva a 1 2 le prime settimane scendeva sotto zero infatti col cinebasto la mattina o di notte quando andavo in bagno c'avevo la pompa dell'acqua che non andava perché c'era ghiacciata l'acqua dentro non usando più la truma però vabbè sopportabile non è questo gran disastro adesso andiamo a prendere la bombola dovrebbe costare 28 euro poi il posto è fighissimo raga in mezzo alla valle è paura è tutto vicino al fine vado a fare tutte le mie cose al supermercato tutto qua a prelevare eccoci arrivati dal bru ma ci stacchiamo la bombola allora se qualcuno può servire a forlì romagna gas 28 euro la bombola da 10 kg venendo qua ho incrociato il supermercato ins che è lo stesso del blocco e quindi mi vado a prendere l'athos dopo quasi un anno a presto Un'altra, un'altra. un po' vero non ci credo guarda grazie no bro non c'è hanno questo non c'è l'atlas ma dio vabbè prenderemo questo l'inse insuperabile bro 18 euro preso un bot di roba parte l'atlas che non c'è vabbè torniamo a casa cappelletti raga siamo in romagna giustamente con l'una ce li smezza facciamo il prosciutto crudo facciamo tutto dentro con l'acqua col brodo un po di olio quando vuole spiacciamo dentro tutti questi qua e ci smezza no e lui sei minuti e va devo non fare danni cottura sei minuti che va non vedi l'ora di mangiarli ce li smezzi anni e pigliamo con questi questa cosa c'è che abbiamo il brodo vediamo di non fare casino non 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 questa è la mia costa di luna aspettiamo che raffredda e gliela tagliamo il vino ce l'abbiamo l'acqua pure adesso maniamo regaz e noi ci vediamo come sempre al prossimo video ciao